La provincia di Udine per la prima volta nella storia è il territorio migliore in Italia per qualità della vita a stabilirlo la 34esima edizione dell'indagine stilata dal sole 24 ore tra gli indicatori ricchezza e consumi ma anche lavoro, giustizia e ambiente, cultura e tempo libero. La Basilica Santa Giustina di Padova ospiterà domani i funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, violenza sulle donne, in Veneto 6.000 le chiamate in un anno agli sportelli della regione. A Dubai, sede della COP28 sui cambiamenti climatici, anche il Friuli Venezia Giulia, l'assessore Scocci Marro al Padiglione Italia, cooperazione internazionale serrata e differenziazione degli approvvigionamenti energetici, il nostro doppio binario. A San Michele al Tagliamento la prima tappa del tour di presentazione dell'agenda a Friulana 2024, il sindaco Maurutto un condensato di storie e tradizioni ancora molto sentito sul nostro territorio. Il telegiornale di Media24 ben ritrovati con l'informazione, dunque lo avete sentito dai titoli, sono diversi gli argomenti del giorno. Ma apriamo con un incidente sul lavoro accaduto a Fontana Fredda questa mattina, ha ferito un giovane operaio caduto da un'altezza di circa 3 metri mentre erano in corso alcune operazioni all'interno di una ditta della località pordenonese. Il personale medico infermieristico ha condotto il ferito all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in condizioni serie, non sarebbe in pericolo di vita. Udine, prima provincia in Italia per qualità della vita, lo ha stabilito l'annuale classifica del sole 24 ore, premiati servizi per bambini ma anche palestre, piscine e dati sulla giustizia. Sale in classifica anche Pordenone che si piazza al 14esimo posto, scendono Gorizia e Trieste, comunque prima per cultura e tempo libero. Tania Pellegrini. E Udine la provincia in cui si vive meglio. Per la prima volta il capoluogo friulano tra le 107 province italiane al primo posto per qualità della vita. E quanto emerge dalla classifica annuale stilata dal sole 24 ore che anche quest'anno premia in generale le città del nord-est. Al primo posto spicca appunto Udine che dopo essersi piazzata nella top 10 solo tre volte in 33 anni ha scalato 11 posizioni dall'anno scorso ed è arrivata in cima alla classifica. Tanti sono stati gli indicatori presi in esame suddivisi in categorie, dal lavoro alla demografia, dalla sicurezza alla cultura. Il capoluogo friulano si è posizionato sul podio per qualità della vita delle donne ed è nella top 10 per qualità della vita dei bambini. Detiene il record di palestre, piscine e centri per il benessere fisico e si è piazzata al quarto posto per giustizia e sicurezza grazie alla limitata frequenza di incendi, delitti informatici e furti di autovetture. Buoni risultati anche per la bassa incidenza di famiglie con ISEI sotto i 7.000 euro e di imprese in fallimento. In materia di cultura e tempo libero Udine si è inserita nella top 10, mentre su questa categoria resta prima in Italia Trieste, scesa però sulla classifica generale di 5 posizioni rispetto al 2022. È infatti dodicesima per un peggioramento in materia di ambiente e servizi, demografia e società, male anche gli indicatori di giustizia e sicurezza. Migliore invece è la vivibilità a Pordenone al quattordicesimo posto, guadagnando 12 posizioni in 12 mesi. Gli indicatori che hanno visto un aumento sono affari e lavoro, più 44, e ricchezze e consumi, più 13. Scende al terzo posto per giustizia e sicurezza dopo che l'anno scorso si era classificata a seconda. In fondo alla classifica delle province regionali, ma comunque in buona posizione c'è poi Gorizia, 28esima tra le province italiane. Peggiorate le performance in cultura e tempo libero, giustizia e sicurezza e affari e lavoro. Salita invece di posizioni per ambiente e servizi, ricchezza e consumi. Omicidio Cecchettin, domani l'ultimo saluto a Giulia. La Basilica Santa Giustina di Padova ospiterà le esequie, ma anche lo stesso Prato della Valle sarà caratterizzato da grandi maxischermi, attese migliaia di persone. Il servizio Rosario Padovano. Domani alle 11 a Santa Giustina dunque ci sono i funerali di Giulia Cecchettin a Padova. Alle 14 a Saunara ci sarà un secondo rito, probabilmente un secondo funerale e poi la salma verrà tumulata accanto alla madre nel cimitero del piccolo paese in provincia di Padova che confina a livello territoriale con il comune di Vigo Novo. Restano però dei punti oscuri ancora da chiarire. Anzitutto la macchina, la Fiat Punto di colore nero, si trova ancora in Germania e all'interno sarebbe custodito un telefonino. Forse da qui potrebbero leggere gli inquirenti i messaggi che potrebbero portare anche a una premeditazione dell'omicidio. Infatti Filippo Turetta sta confessando il barbaro assassino. Ha parlato nove ore con il pubblico ministero nella fine settimana durante un interrogatorio a fiume. Ha ricevuto i genitori nel carcere in visita dopo una prima fase in cui papà e mamma erano un po' titubanti. Ora però si sta cercando di delineare la strategia difensiva del reo confesso, mentre i familiari di Giulia Cecchettin purtroppo sono condannati all'ergastolo eterno del dolore. E nel pomeriggio la stazione dei carabinieri di San Michele e Bibione ha inaugurato la stanza tutta per sé, ovvero lo spazio in cui le vittime di violenza e atti persecutori possono confidare ai militari dell'arma tutto il loro disagio. Il taglio del nastro è stato preceduto da un momento di riflessione nella sala consigliare del municipio di San Michele al tagliamento. A introdurre la cerimonia è stato il capitano della compagnia carabinieri di Porto Gruaro, Raffaele Di Lauro, al canto al generale di brigata Nicola Conforti, comandante provinciale di Venezia, a fare gli onori di casa. Come vediamo dalle foto scattate dal collega Rosario Padovano, anche diversi sindaci del territorio e rappresentanti delle forze dell'ordine. La stanza tutta per sé di San Michele al tagliamento è la prima nel mandamento di Porto Gruaro. Le persone che subiscono abusi e violenze possono trovare accoglienza e protezione in un contesto in cui possono essere messe a loro agio nel momento delicato della denuncia. Il Comune, ha detto il sindaco Flavio Maurutto, resta in prima linea. In Veneto sono 6.000 all'anno le donne che hanno chiamato gli sportelli antiviolenza della regione. Il dato è emerso questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Balbi. Sentiamo sul tema il presidente della regione, Luca Zaia, che ha commentato anche la vigilia di questa giornata caratterizzata appunto per l'attesa dei funerali di Giulia, programmati domani. Domani i funerali di Giulia Cecchettin. Lei ha chiesto la partecipazione, che la comunità si faccia sentire. Ma si farà sentire. Dico anche nelle diverse dimensioni, diverse misure, nelle diverse modalità. Ognuno di noi da abbassare una serranda a 5 minuti alle 11. Alle 11 suonerà la campana a morto e inizia il funerale. Abbassare una serranda, spegnere una luce di un negozio piuttosto che altro è un'occasione per dire io c'ero, io ci sono. Ci sono in questa battaglia, una battaglia fondamentale, una battaglia di comunità. Abbiamo visto i numeri. 6.000 donne all'anno che chiamano i nostri sportelli. E il 26% delle quali passano prima da un pronto soccorso e il 74% delle donne comunque vengono picchiate. Direi che è un dato che veramente ci preoccupa. Una battaglia che preoccupa è il fatto che solo una percentuale denunci poi, una bassa percentuale, una su tre. Beh, una su tre vuol dire che due su tre che non denunciano tornano a casa e rischiano ancora di subire maltrattamenti, violenze fisiche, violenze psicologiche. E questo è qualcosa che ci inquieta. Ricordo le donne che mi stanno ascoltando che abbiamo 28 sportelli, abbiamo 76 posti letto, dei quali molti anche anonimi, senza indirizzo, per dare tutela massima. Quattro auto di contrabbando sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza al casello autostradale di Venezia Est a Mogliano Veneto. I mezzi di pregio immatricolati tutti in paesi extracomunitari erano stati importati senza il pagamento dei dazi doganali e dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente a Treviso, Venezia, Modena e Roma. Si tratta di due Audi A8, una Mercedes E200 e una BMW 535XI. Attraverso la consultazione delle banche dati, i finanziari hanno scoperto che i quattro proprietari si erano stabiliti da molti anni in Italia, avendo trasferito qui il centro dei propri interessi familiari, lavorativi e sociali, ma senza immatricolare i veicoli. Controlli contro le stragi del weekend nelle notti di venerdì e sabato. La polizia locale del distretto Friuli Occidentale ha controllato 75 conducenti, sospesa la patente a quattro persone alla guida sotto l'effetto di alcolici. Tra questi anche un neopatentato trovato con un tasso alquilemico superiore allo zero assoluto. Sul territorio sono state impegnate otto patruglie di polizia locale coordinate venerdì sera dal commissario Capo Candido e sabato noto dal comandante Zorzetto. Durante i controlli sono state verificate varie violazioni amministrative ad altre norme del codice della strada. Il comando di polizia locale ha comunicato che i servizi proseguiranno ancora in altre notti del mese di dicembre per evitare che momenti di gioia e festa legati al Natale possano trasformarsi in tragedie lungo le strade della città. A Venezia è rafforzato il presidio delle forze dell'ordine nelle zone della Movida attraverso servizi straordinari della Polizia di Stato relativi al controllo del territorio. Nello specifico i controlli interforze anche con altre forze dell'ordine hanno permesso di identificare sia dentro che fuori dai locali interessati dalla Movida quasi 100 persone tra cui anche diversi con precedenti penali di polizia di vario tipo tra cui un cittadino straniero con precedenti risultato di essere già stato espulso in passato nel proprio paese d'origine e rientrato successivamente in Italia violando il divieto di reingresso e pertanto dopo essere stato arrestato è stato condannato a scontare 10 mesi di reclusione per la violazione del divieto di ingresso in Italia. A Dubai viene ospitata la COP28, la conferenza dell'ONU dedicata al clima e ai cambiamenti climatici al Padiglione Italia, presente anche il Friuli Venezia Giulia con l'assessore Scocci Marro che relativamente proprio alle politiche ambientali della regione ha spiegato quali sono le priorità. Assessore Scocci Marro, anche il Friuli Venezia Giulia protagonista alla COP28 di Dubai la conferenza mondiale sul clima. Nello stand dell'Italia sono stati presentati i progetti che il Friuli Venezia Giulia sta portando avanti in queste tematiche. Che cosa si tratta e che cosa sta facendo la regione? Noi abbiamo illustrato quelle che sono le nostre politiche che a noi tutti conoscono dal Stato generale dell'ambiente, il progetto della Idrogen Valley con la Slovenia, la Croazia e l'Italia appunto ma non solo, tutte quelle che sono le iniziative, le buone pratiche che abbiamo messo appunto in atto in questi cinque anni e che vorremmo fare anche nei prossimi cinque anni. I progetti che abbiamo nel termine appunto del nostro mandato ma anche progetti più importanti che vengono traguardare sulle future generazioni. Qui a COP28 Dubai, oggi primo giorno, quindi siamo proprio le prime ore di visita, abbiamo già avuto un confronto con non solo con i nostri colleghi europei ma anche con i colleghi africani e anche del Brasile. Quindi è interessante appunto confrontarci anche a questo tipo di livello perché le buone pratiche si possono sempre appunto trasmettere. Adesso vediamo nel proseguo delle prossime giornate di domani, quali possono essere appunto altre possibili collaborazioni non solo con l'Italia ma anche e soprattutto con la nostra regione. è in corso fino al 12 di dicembre la COP28, questa conferenza dell'ONU dedicata al clima e che di fatto ha sancito insomma un accordo sul nucleare, almeno così sembra, Maurizio Billotto che è un esponente di Lega Ambiente. Ecco qual è una prima sintesi che si può fare? Perché si parla tanto di raggiungere quel famoso accordo, però è difficile poi fare una sintesi soprattutto tra i paesi che inquinano di più al mondo, è sempre lì che andiamo a finire. Diciamo che viene ospitato nel paese del petrolio e grossomodo i risultati sono questi, cioè dagli obiettivi di Parigi a quello che sembra emergerà diciamo da questo documento finale del 12 che però insomma grossomodo negli interventi principali si è già delineato, non è sicuramente un risultato che rispecchia le attese di agire per contenere la crisi climatica. Io direi affrontiamo le due questioni. Nucleare è l'eterno rincorsa ad offrire delle soluzioni ai cittadini che hanno bisogno di risposte ora, offrirle se tutto va bene fra 30 anni. Il patto è per triplicare? Sì, per triplicare il nucleare e qui c'è la Francia che ha spinto moltissimo chiaramente puntando a reattori più piccoli ma se il problema è energetico ottenere una nuova centrale, l'abbiamo vista in Finlandia aperta due anni fa dopo oltre 20 anni di lavori e chiusa perché ha grossi problemi di gestione e queste sarebbero quelle centrali di terza generazione. Stiamo dicendo alle persone che ti risolve il problema senza dargli una prospettiva reale. Quello che può dare prospettive reali, immediate, sono comunque invece quelle facilmente disponibili e lo ripetiamo e sono le rinnovabili, cioè vento, sole, mare per chi ha la possibilità, comunque le varie componentistiche. Chiaro che non può essere un assalto ma queste sono disponibili e in maniera molto veloce. Queste sono risposte che si possono dare subito anche e soprattutto ai cittadini italiani che sono stati diciamo travolti dallo shock energetico coincidente con lo scoppio della guerra in Ucraina che ripeto però il gas fondamentalmente non è mai mancato. Quello che c'è stato è stato un gioco speculativo. Che noi si sposti il gas dalla fonte russa a quello di paesi più instabili quali possono essere la Tunisia o l'Azerbaijan o d'alti, non cambia niente. Siamo sempre ostaggi di qualcun altro. Al buon ministro che dice che si farà la centrale nucleare nel quartiere a Milano, boh, la faccia se ritiene di averle capacità e la possibilità di farlo. Nel frattempo magari dovrebbe dire dove mettere le scorie di quelle centrali dismesse. Allora ci sono bisogno di azioni concrete. Altro grande tema. Altro tema delle grandi scorie. Stiamo ancora cercando di smaltire, stiamo attendendo quali sono le indicazioni dei siti, del sito perché dovrebbe essere uno unico per per stoccare appunto le scorie provenienti dal, ma non solo diciamo dalla centrale, comunque cioè tutta la parte radioattiva, ma non ci sono risposte e si continua a predicare nella direzione delle fossi. Lo stesso intervento del presidente, del presidente dello sceico ospitante ci dice che non ci sono evidenze scientifiche che bisogna uscire dalle fossili per poi rimangiarselo parzialmente oggi. Però il problema è che si dicono queste cose. Quello che dobbiamo dare alle persone sono risposte. Andiamo alle rinnovabili, cominciamo a dare spazio, applichiamola, diamo questi decreti attuativi anche per le comunità energetiche, quindi rendiamo democratica l'energia come è possibile farla. E queste sono risposte. Ci sarà un nucleare pulito? Bene. Tanto o meglio. Se ci sarà? Bene. Intanto rispondiamo a questo e concretamente salviamo, liberiamo i cittadini dal ricatto energetico, del costo energetico. Grazie a Maurizio Bilotto. Grazie a voi. Chiediamo questa pagina dedicata all'ambiente e al clima con un incidente stradale con quattro feriti in A4. È di quattro feriti, per fortuna tutti lievi, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri sera in autostrada, poco prima del casello di Portogruaro, nel tratto compreso tra le uscite di Sastino e Portogruaro, appunto in un tratto a due corsie. Si sono scontrate due macchine che sono finite distrutte. Fortunatamente i quattro feriti non sono gravi. Su una macchina viaggiava in direzione Trieste una coppia di coniugi di Monfalcone. Invece sull'altra vettura viaggiavano madre e figlia residenti a Fiume Veneto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della stradale di Sanonà di Piave con il carroattrezzi proveniente da fuori e gli agenti di autostrade Alto Adriatico reperibili sul posto per i soccorsi. L'autostrada è rimasta chiusa per almeno mezz'ora per garantire i soccorsi con il suo M118. Alla fine i disagi sono stati ridotti al minimo. È il primo incidente rocambolesco da diverse settimane a questa parte. In autostrada A4 si sta concludendo un anno dove nel Veneto orientale non ci sono stati incidenti mortali. Risalgono tutti al 2022. Parliamo di politica è Andrea Cabibbo il coordinatore provinciale di Forza Italia in Friuli Occidentale. Questo l'esito del congresso che si è svolto nel fine settimana a Pordenone alla presenza tra l'altro anche di Maurizio Gasparri. Andrea Cabibbo figura di spicco del movimento forzista e ovviamente aderente al partito fondato da Silvio Berlusconi già dagli anni 90. Avrà dunque le redini del movimento. Cabibbo è già presidente del consiglio comunale a Pordenone nonché assessore. Attualmente come detto siede in consiglio regionale a Trieste. Continuiamo a parlare di politica. Andiamo però a Pordenone dove vedo collegata Tania Pellegrini con il suo ospite. Grazie Alessio della Liria siamo con Nicola Conficoni consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia con il Partito Democratico. Grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a voi. Parliamo di sanità in particolare alla luce di un report redatto dalla scuola universitaria Sant'Anna che mette in luce delle problematiche relative alle prestazioni oncologiche in regione. Si salva ancora il Cro di Aviano ma insomma le aziende sanitarie regionali e quindi anche a Pordenone contano liste d'attesa veramente lunghe per le prestazioni oncologiche che ricordiamo si tratta di un tema estremamente delicato dove il tempismo è importante. Qual è il ruolo della politica secondo lei in questo contesto? Beh innanzitutto effettivamente le recenti indagini rese note sui tempi di attesa confermano delle gravi difficoltà del servizio sanitario regionale. Non solo il rapporto dell'Istituto Sant'Anna sulla chirurgia oncologica che effettivamente mette in luce come i tempi di alcuni interventi siano diciamo tra i più lenti e vedono la nostra regione fanalino di coda ma anche il rapporto Agenas sulle prestazioni ambulatoriali. Sono dati molto negativi che preoccupano evidentemente il sistema fa fatica a tenere e chiaramente la politica deve prenderne atto in particolare l'assessore Riccardi e il presidente Federiga. La loro ricetta non sta dando i risultati sperati. Quindi già in occasione della prossima legge di stabilità che andrà in discussione la prossima settimana in consiglio regionale a Trieste come Partito Democratico faremo delle proposte per rilanciare il servizio sanitario pubblico per poter affrontare in particolare anche queste criticità. Siccome riteniamo che il primo fattore di crisi sia la carenza di personale ci concentreremo proprio su questo e chiederemo alla regione di accogliere delle proposte per favorire diciamo il trattenimento del personale in servizio che sta fuggendo verso il privato finanziato dalla regione. Quindi pensiamo di erogare un premio fedeltà ai dipendenti che sono già in servizio che si impegnano a rimanere nelle aziende sanitarie per un determinato numero di anni così come proporremo di investire maggiori risorse nella formazione di nuovi medici e nuovi infermieri per rendere più appetibili questi percorsi di crescita professionale e anche per dare migliori servizi chiaramente ai cittadini in modo tale che il sistema sanitario possa meglio corrispondere a quelli che sono i loro bisogni di salute. Diciamo questi temi non sono nuovi ormai sono anni che ne parliamo e inoltre non potranno avere delle soluzioni a breve termine ma i risultati reali si vedranno tra diversi anni. Questo come impatta su proposte vostre oppure le decisioni che prende la giunta regionale secondo lei? Ma è proprio tenendo conto di questa considerazione che noi ci siamo orientati a diciamo proporre delle misure che come primo obiettivo hanno quello di arginare la fuga dei medici perché è vero che nel corso del tempo non è che dall'oggi al domani riusciamo a formare nuovi medici nuovi infermieri e quindi ad averli a disposizione tempestivamente e quindi come prima cosa dobbiamo mantenere quelli che abbiamo. Tra il 2020 e il 2022 dal servizio sanitario regionale ci sono state 1530 dimissioni volontarie di operatori che sono andati a lavorare in altre realtà pubbliche o private e noi dobbiamo cercare di trattenere questi professionisti. Penso ad esempio alla fuga dei radiologi che sta costringendo l'azienda sanitaria ad esternalizzare un servizio che è di fondamentale importanza per un ospedale come quello della radiologia per l'appunto. Noi dobbiamo anche porsi l'obiettivo di riportare all'interno delle aziende sanitarie l'erogazione di questi servizi per poter migliorare la qualità. E brevemente e invece spostandoci proprio nel consiglio comunale a Pordenone, nell'ultimo consiglio si è discusso anche della problematica del traffico sulla Ponte Bana e lei come consigliere di opposizione aveva presentato un'interrogazione in merito, come è andata? Purtroppo a Pordenone negli ultimi anni non sono peggiorati solo i servizi sanitari ma anche il traffico e tutti quelli che si muovono in particolare nelle ore di punta si accorgono di come le code sono aumentate. Questo non succede solo lungo Ring dove comunque alcuni interventi previsti dal piano della mobilità approvato dalla giunta Ciriani non sono stati programmati e quindi non verranno realizzati a breve ma succede anche sulla Ponte Bana dove pure fluidificare il traffico potrebbe portare dei benefici anche in centro perché oggi molti scelgono Ring perché la Ponte Bana è intasata. Da anni è in programmazione la realizzazione di una rotonda proprio lungo la Ponte Bana all'altezza del semaforo con via interna per poterlo eliminare per poter rendere più scorrevole la statale e però questo intervento è fortemente in ritardo e risulta bloccato diciamo perché evidentemente i problemi che si sono manifestati non sono stati ben gestiti e affrontati in un'ottica di priorità. Durante la risposta che è stata data a un'interrogazione in merito nell'ultimo consiglio comunale è emerso non solo che le progettazioni non sono completate ma che addirittura mancano dei fondi. Ecco noi chiediamo sotto questo punto di vista una accelerazione che anche se non potrà cancellare i ritardi che sono stati accumulati però è chiaro che bisogna sbloccare assolutamente delle opere tanto attese quanto importanti come le rotatorie lungo la strada statale 13 dove peraltro anche il Ponte Meduna è in forte ritardo. Avremo modo di parlarne ancora grazie intanto a Nicola Conficoni per essere stato con noi. Grazie a voi. Ripasso la linea ad Alessio Conforti negli studi di Porto Gruaro. Grazie Tania. Rimaniamo ancora in città con il progetto di rigenerazione dell'area dell'ex fiera. A Pordenone si riapre il tema dei parcheggi. A breve al via i lavori per i nuovi 60 stalli in via Quirino. Rimpiazzeranno gli attuali prefabbricati, attualmente sede di associazioni di volontariato. Tra i temi al centro del dibattito sul noto piano di rigenerazione urbana del quartiere dell'ex fiera si è riaperto quello sui parcheggi. Dopo il congelamento del progetto che prevedeva un parcheggio interrato da 240 stalli in piazza del popolo e considerando che con il Polo Young non sarà previsto l'accesso alle auto per permettere ai ragazzi di giocare e muoversi in completa sicurezza, molti genitori si stanno ponendo delle domande in materia. Dove posso parcheggiare quando devo accompagnare o aspettare mio figlio? La risposta è arrivata dal municipio con la realizzazione del parcheggio di via San Quirino, un progetto da 675 mila euro che sorgerà nell'area oggi occupata dai prefabbricati donati alla città dagli americani in seguito al terremoto del 76 e attualmente sede di alcune associazioni di volontariato. Queste ultime, ha fatto sapere il comune, verranno trasferite in un altro luogo più adatto ad ospitare attività associazionistiche. Il nuovo parcheggio, da 60 stalli a raso, dovrebbe quindi fungere da polmone per le necessità di sosta di chi frequenta l'area, ha spiegato il sindaco Alessandro Ciriani in una nota. Nello stesso parcheggio, la cui realizzazione inizierà questo mese con lo smaltimento dell'amianto e la demolizione dei prefabbricati, saranno realizzati anche dei posti per la ricarica di auto e biciclette elettriche. Si tratta di una prima risposta, ha fatto sapere il sindaco, a coloro che hanno espresso preoccupazione per la viabilità della zona e la mancanza di stalli per la sosta. Il parcheggio sarà realizzato senza andare ad intaccare l'albero esistente e sarà infine circondato da nuovi alberi, che saranno piantumati per dare ombra alle auto in sosta e a vantaggio dell'ambiente. Agenda Friulana 2024 a San Michele al Tagliamento, la prima tappa. Con il sindaco di San Michele al Tagliamento, Flavio Mauruto, oggi presentazione Agenda Friulana 2024 nella giornata della Friulanità. Diciamo che innanzitutto è una ricorrenza storica con l'editore Candetti della presentazione in primis dell'Agenda Friulana proprio nel nostro comune, in qualche modo per riscoprire anche le nostre tradizioni culturali, i nostri idiomi friulani che vedono in questo territorio del comune di San Michele al Tagliamento ancora molto radicamento e di questo noi andiamo anche orgogliosi e quindi ringraziamo la casa elettrice che ha come ogni anno voluto attenzionare il nostro comune con questa prima presentazione. È una festa per riscoprire un po' le nostre tradizioni, le nostre origini, la nostra cultura che in qualche modo è radicata a confine appunto tra il Veneto e il Friuli e sicuramente ancora oggi molti dei nostri concittadini parlano friulano e quindi riscoprire questa lingua, riscoprire questo modo di fare credo sia importante per riscoprire anche la nostra storia. Come ogni anno è sempre un piacere ospitare l'editore Candetti. Si tratta di una pubblicazione molto importante perché non è una semplice agenda naturalmente, è un condensato di storie e tradizioni friulane raccolto sotto forma di spunti, pillole, piccoli raccontini di ricette, di fotografie, di immagini che recuperano un po' la tradizione friulana, la storia e che fra l'altro a San Michele al Tagliamento ha trovato sicuramente un pubblico attento e che apprezza perché ormai da una ventina d'anni San Michele è appunto la prima tappa del tour di presentazione di questa agenda proprio per l'accoglienza calorosa e appassionata che il nostro pubblico riesce a dare a questo volume. Economia è stato un 2023 all'insegna di difficoltà non di poco conto anche a causa dell'aumento dei tassi di interesse che hanno reso difficoltoso per molti accedere a mutui e prestiti bancari. Se ne è parlato sabato durante l'inaugurazione in Piazza della Vittoria a Treviso della nuova filiale di Banca Prealpi San Biagio. Si inaugura oggi in Piazza della Vittoria a Treviso una sede della Banca Prealpi San Biagio. Che significato ha questa giornata? Perché è importante questo investimento? Questa filiale di Treviso di Banca Prealpi San Biagio è la dimostrazione di come noi vorremmo e vogliamo applicare il nostro modo di fare credito cooperativo nel nostro territorio. Qui si sviluppa molto bene la relazione, una relazione che deve essere coniugata anche attraverso una consulenza importante in tutte le forme a 360 gradi in modo tale che il socio, il cliente, possa fruire di tutte le migliori, non solo tecnologie ma anche delle migliori pratiche per quanto riguarda quindi lo sviluppo dei propri interessi economici e lo sviluppo del proprio interesse, dell'interesse della propria vita anche. Tra le attività in cui la banca è coinvolta che cosa spicca in questo 2023? Ma diciamo che un 2023 è molto importante sotto tanti punti di vista che ha visto ovviamente i tassi di interesse che hanno dato una svolta abbastanza pesante per quanto riguarda la problematica relativa ai mutui. Ma in questo senso abbiamo chiaramente messo in atto quelle misure di mitigazione per quanto riguarda ovviamente l'impatto che questi tassi elevati hanno creato nei confronti dei clienti. In questo senso quindi ci sentiamo veramente ad essere una banca del territorio che va a cercare e a trovare le soluzioni per le problematiche contingenti ma soprattutto cercare anche di dare quelle soluzioni per risolvere e dare prospettiva al futuro dei nostri clienti. È un appuntamento importante perché un nuovo punto di socialità attraverso una filiale di banca apre nella nostra città, devo dire fortunatamente l'ennesimo, quindi un segnale di vitalità di una città che è pronta ad accogliere realtà virtuose come Banca Prealpi che sono dei compagni di viaggio fedeli e costanti nell'attività dell'amministrazione comunale perché con Banca Prealpi ci troviamo quando parliamo di cultura, quando parliamo di sport, quando parliamo di social, insomma la fortuna di avere un istituto di credito che non guarda soltanto al profitto ma guarda anche al sociale e alla restituzione a una comunità che tanto dà alla banca ma in questo caso siamo fortunati perché anche tanto riceviamo. E che anno è stato per la cittadinanza di Treviso? Ovviamente come per tutta l'Italia è stato un anno complicato caratterizzato dall'incertezza sul futuro, dall'inflazione, da due guerre, una addirittura in Europa e una molto vicina che ci sta condizionando soprattutto da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sociale ed emotivo ma devo dire che quando poi nel territorio ci sono le istituzioni che funzionano e ci sono anche delle realtà private come appunto Banca Prealpi che si mettono a disposizione della società, del territorio per aiutare ad uscire da un periodo particolarmente difficile. Noi siamo contenti e orgogliosi di poter continuare insieme un cammino attraversando anche le difficoltà però guardando al futuro con grande ottimismo. San Michele al tagliamento dall'8 dicembre al 7 gennaio percorrendo la ciclo pedonale di Bibione fino al faro di punta tagliamento si potrà ammirare l'ormai tradizionale presepe di Sagome giunto alla sua quarta edizione. Quest'anno con una novità la realizzazione delle presepe ideato dall'associazione Nexta visto protagonisti oltre agli alunni di San Michele anche i bambini di Porto Gruaro estendendosi a un totale di ben 12 classi coinvolte nell'ideazione e creazione delle installazioni. Nell'installazione le otto scuole del territorio San Michele e le quattro del Porto Guraresi hanno accolto con entusiasmo la richiesta di partecipazione dando sfogo alla loro fantasia e creatività. E lutto nel mondo religioso del nord-est addio a Don Bruno Cescon. Era malato di Parkinson ma non aveva fatto mancare il suo impegno soprattutto per il giornalismo e la catechesi negli ultimi tempi. E' mancato questa notte Don Bruno Cescon per vent'anni direttore del settimanale Il Popolo Diocesano, organo ufficiale della diocesi di Concordia Pordenone. Da tempo un malato di Parkinson si è aggravato improvvisamente. Si è spenta, come ricorda il suo ex giornale che abbandonò dopo vent'anni nel 2016, una mente vivace, curiosa, sapiente. Un cuore generoso pronto ad aiutare nell'ombra uno sguardo attento ai cambiamenti del mondo. Nato a Fossalta Maggiore, frazione di Chiarano, in provincia di Treviso. I suoi erano originari di Vittorio Veneto. Don Bruno Cescon, che ha anche un fratello prete che si chiama Luciano, era nato il 12 gennaio 1948 ed è stato ordinato il 24 giugno 1973. Si era laureato in teologia e pedagogia. Aveva conseguito il dottorato in liturgia. E' stato giornalista noto a livello nazionale. Si era formato alla redazione del Gazzettino di Giorgio Lago, di cui aveva grande stima. I suoi articoli, ricorda sempre il popolo, viaggiavano dal nord-est alla Sicilia. Ha poi lavorato per l'agenzia di stampa di Enne Kronos e per il SIR, il Servizio di Informazione Religiosa. Dal 1996 al 2016 ha condotto brillantemente la direzione del settimanale Il Popolo, che si era aperto al formato tabloid e al primo sito internet, radunando poi allo sport una squadra di giovani cronisti. Nei suoi editoriali si è sempre battuto e ha dibattuto di temi sociali, molto cari da sempre alla diocesi di Concordia Pordenone, almeno dal 1968 in avanti. Sono molto numerosi i messaggi di cordoio che stanno giungendo in questi minuti alla diocesi, che per prima ha ufficializzato questa mattina dopo l'alba la brutta notizia. E anche il vescovo della diocesi di Concordia Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, ha reso omaggio alla figura di Cescone, lo ricordiamo per il suo lungo impegno nello studio e insegnamento presso il seminario diocesano di Concordia Pordenone, Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina, Pontificio Istituto Sant'Anselmo, ma anche nel giornalismo, nel settimanale diocesano, il popolo e come assistente diocesano in azione cattolica Concordia Pordenone. Ricordiamo, ha detto il vescovo Pellegrini nel suo messaggio di cordoglio, la sua famiglia e ringraziamo il Signore per il suo prezioso servizio. A Meduna di Livenza la donazione di un defibrillatore. È stato donato al suo comune un defibrillatore. Sì, siamo molto contenti, è un strumento salvavita, lo abbiamo posizionato sotto la sala all'ingresso municipale dove c'è l'ufficio anagrafe, le poste e dove il contesto, il municipio, il piazzale si creano eventi, quindi abbiamo pensato di posizionarlo dove ci sono densità di persone importanti sperando chiaramente che non serva mai. Bene, un medico prima ha spiegato che oltre alle persone che sono abilitate perché hanno un patentino, tramite 118 anche chi non ha il patentino potrebbe essere guidato a salvare una vita e questo è molto importante. Sì, questo è molto importante anche perché questi tipi di strumenti moderni hanno una voce, spiegano anche l'utilizzo, quindi è anche semplice. Però vorrei anche dire questo, oltre che il strumento che ci è stato donato dalla palestra Energy, noi abbiamo relazionato insieme e collegato un corso, quindi vogliamo dire abbiamo installato il sistema defibrillatore, dall'altra parte stiamo avviando un corso di preparazione e di formazione e di utilizzo di questo formato. Ne abbiamo sicuramente tre nel territorio, siamo 3.000 abitanti, quindi uno per 1.000 abitanti. Ci stiamo lavorando per l'utilizzo anche di un quarto magari nelle aree sportive. Crediamo in questo tipo di ausilio da sempre e da sempre siamo formati per questo e facciamo continuamente corsi di aggiornamento. La seconda motivazione sinceramente è perché vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale visto che noi lavoriamo in questo comune già da più di 20 anni e ringraziare anche la fiducia che tutta la popolazione di Meduna continua a darci come attività. Ecco, naturalmente lo sport è molto importante e è un defibrillatore fondamentale, diciamo. Sì, come ha detto Enea, avere il defibrillatore negli impianti sportivi è obbligatorio da una decina d'anni e noi lo avevamo anche prima dell'obbligo. Riteniamo comunque importante che sia presente anche in altri ambienti come ad esempio le piazze o comunque luoghi affollati proprio per, sperando di non doverlo usare mai, per eventualmente utilizzarlo. Concordia Sagittaria, grande interesse ha suscitato il convegno organizzato in occasione del 150esimo anniversario della scoperta del sepolcreto dei militi da parte di Dario Bertolini di cui ricorrono quest'anno i 200 anni dalla nascita. Numerosi gli interventi di importanti studiosi che hanno ripercorso la storia degli scavi a Concordia e delle importanti scoperte fra le quali appunto il sepolcreto dei militi o necropoli di Levante come definita dal professor Gino Bandelli del suo intervento. Un convegno dunque sul 150esimo anniversario della scoperta del sepolcreto dei militi di Giulia Concordia che si è svolto sabato 2 dicembre in sala consigliare del municipio concordiese. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, spazio allo sport con il TGM dedicato proprio alle attività sportive condotto dal collega Giuseppe Palomba e dopo il TG buonanotte e buona fortuna alla nuova rubrica di Alessandro Rinaldini. Programmazione dunque tutta da seguire, arrivederci. Grazie a tutti.